Dopo il primo gol c'è stata subito una reazione cercando di portare a casa, di raggiungere subito il pareggio, ciò non è venuto e nel nostro momento migliore abbiamo preso anche il gol su calcio d'angolo, queste sono disattenzioni che non possiamo compiere, però c'è ancora da lavorare, noi non possiamo mollare anche perché il campionato è appena iniziato. Innanzitutto non bisogna pensare sia un problema se no ci deprimiamo, quindi dobbiamo cercare di entrare con la giusta mentalità in campo non regalando niente, non mollare mai niente anche perché come ho già detto il campionato è appena iniziato, non abbiamo ancora ingranato, speriamo di farlo il prima possibile perché non vogliamo fare solo una comparsa. No, le cose adesso non ci girano neanche come dovrebbero girare, noi dobbiamo farle portare dalla nostra parte e questa è l'unica cosa, dobbiamo metterci qualcosa in più per farle portare le cose, quella cosiddetta fortuna che non si chiama fortuna ma sono cose che tu fai e te la porti dalla tua parte. Penso che abbiamo sbagliato soprattutto nell'atteggiamento, è un errore che la parte nostra non dobbiamo commettere perché non siamo una squadra che ci può permettere di calarsi mentalmente con l'atteggiamento, andare lenti perché se no come abbiamo visto oggi si subisce tanto. Ma noi le prestazioni, qualche prestazione c'è stata, abbiamo visto quando mettiamo in campo l'atteggiamento giusto, la grenta, come ho detto prima, penso ce la giochiamo, non è che è quello il problema, ripeto, noi assolutamente non ci possiamo permettere di fare qualsiasi errore a livello di atteggiamenti, di qualsiasi tipo perché è una battaglia ogni partita, ogni minuto, ogni secondo. Ma niente, testa bassa è lavorare, lavorare con tanta umiltà e poi non pensare alle tre partite che verranno, partita dopo partita, adesso pensiamo alla prossima e dopo, ripeto, se lavoriamo bene con l'atteggiamento giusto e tutto, le prestazioni arriveranno di conseguenza ai risultati. C'è bisogno di far punti assolutamente sì, perché l'obiettivo è salvarsi, ma lo sapevamo che il campionato era difficile e ripeto, adesso in qualsiasi modo dobbiamo prendere più punti possibili in ogni partita.